130.000 presenze e un quarto dei visitatori arrivato da fuori regione. Il presidente di EuroToccolit Eugenio Guarducci con soddisfazione illustra i numeri della Kermess che per la prima volta si è svolta ad Avellino. Bilancio molto soddisfacente sia da parte delle aziende che hanno partecipato all'evento sia dagli sponsor che hanno contribuito. Al di là dei numeri c'è anche un giudizio molto positivo sulla qualità dell'evento. Il sondaggio è andato avanti anche nell'ultimo weekend e lo elaboreremo nelle prossime ore ma tendenzialmente si confermano quelle valutazioni fatte dai visitatori del primo weekend. Un weekend che ricordo è stato caratterizzato da eventi meteo non favorevoli. La città, l'organizzazione però ha saputo reagire riuscendo a garantire un prolungamento che ha dato dei frutti molto significativi. Strepitosa poi la partecipazione che si è registrata nel fine settimana che ha consentito ad Eurocioccolit di chiudere con il botto. Avellino è una città credibile sulla quale poter puntare l'apertura di attività commerciali da marchi internazionali. Ne sono una conferma così il sindaco che in apertura di conferenza ha esordito dicendo ottima la prima lasciando chiaramente intendere che ci sarà anche la seconda edizione. Assolutamente sì, dopo questo successo strepitoso, 130.000 presenze, una notorietà a livello nazionale, una grandissima partecipazione da parte non solo dei campani ma un quarto dei nostri visitatori sono stati provenienti da Lazio, Molise, Basilicata e Puglia e quindi sicuramente un'edizione da ripetere rispetto agli investimenti che in generale questa amministrazione ha fatto negli ultimi anni per consolidarsi, per farsi conoscere, per essere validata e poi registrare l'apertura di attività commerciali con brand internazionali e direi di attività commerciali anche locali. Negli ultimi tre mesi circa 150 ragazzi sono stati assunti da queste attività in città. Beh, questo rappresenta un importantissimo dato di crescita.